Pisarda, grande organizzatore di eventi, è qui per Notre-Dame de Paris il presente ma anche il futuro. Il presente sì, adesso al Teatro della Verdura e il futuro poi a novembre al Palacatania. Un'anticipazione quindi ricca? Beh, anticipazioni sugli eventi nostri futuri se ne possono dare pochi per l'inverno. Ci fermiamo a novembre per adesso e poi vedremo cosa succederà. Siamo qui poi con il grande Mario Grotta che è il papà di noi organizzatori in Sicilia e quindi sono molto contento. Dal presente quindi alla storia? Alla storia, veramente alla storia. Proiettata al futuro? Proiettata al futuro, sono 55 anni di attività, mi congiorno, ero giovanissimo, ho la mia età, però ancora sto sulla breccia della musica leggera, della lirica, di balletti, insomma tutto quello che concerne lo spettacolo.